Nel pomeriggio è arrivato il bollettino dall'ASL di Pescara per l'aggiornamento sulle condizioni di Gelfri. Il quadro neurologico, comunica il dottor Zotta, che ha operato il ragazzo, potrà essere più chiaro solo dopo le 72 ore. Ma la bella, bellissima notizia è che il ragazzo si è svegliato e addirittura parlato. Ascoltiamo. Le parole di Marisol, che ha coordinato questa manifestazione qui a Piazza Salotto, dando una notizia non bella, bellissima, perché Gelfri ha parlato. Allora, io sono la mia voce, ma è quella che parla per la famiglia e per tutti i dominicani e le associazioni in Abruzzo e in Italia. Niente, stavamo aspettando che si risvegliava Gelfri verso le tre del pomeriggio, però grazie a Dio si è svegliato alle due e mezza più o meno e ha anche parlato e ha detto baci baci, mi voglio bene, sto bene. Grazie. Abbiamo incontrato Marisol Marte durante la manifestazione di preghiera organizzata dagli amici di Gelfri nel pomeriggio a Piazza Salotto. Per il quadro neurologico complessivo della paziente bisognerà però attendere, come detto e come riferito con una nota ufficiale dalla ASL di Pescara, le 72 ore alle mie spalle in locale dove c'è stata domenica la sparatoria.